E legandomi un po' al discorso di Nunzia, cioè quello della qualità, assistiamo a questo fenomeno dei reality show, a questo fenomeno delle trasmissioni televisive, dalle quali escono persone, personaggi, più che persone, insomma personaggi costruiti ad arte, che poi in effetti riempiono le pagine dei giornali e poi calcano anche le scene. Bene, cosa pensate? Voi che siete degli interpreti di quelli che hanno studiato, che hanno lavorato fino in fondo, hanno lavorato sodo, cosa pensate di questo fenomeno? Intanto è un problema di formazione, cioè noi ci hanno insegnato che per fare delle cose devi imparare a farle, devi studiare, quindi veniamo da un tipo di logica che prevede uno studio, un accertamento, una verifica, un interessarsi di tutto quello che riguarda il tuo ruolo. C'è una battuta che si diceva in alcuni spettacoli, che mi sembrava esemplificativa, della situazione attuale, riferita alla televisione, ma potrebbe riferirsi anche ad un altro settore. La domanda era, ma tu sai recitare? Dice no, sai cantare, sai ballare? No, dice va bene, allora tu sei perfetto per fare la televisione. Insomma, il meccanismo è un po' questo qua. Si crea il personaggio che serve in quanto tale e tu ti chiedi che qualità abbia. Non riesci a rispondere e cerchi di capire allora che forza ha il mezzo per proporre dei personaggi che in realtà non stanno a fare niente. Il problema adesso non riguarda soltanto quei personaggi e quel tipo di televisione, il problema è il messaggio che danno. Perché se a un laboratorio mi trovo dei ragazzi e mi dico io faccio questo laboratorio perché voglio fare televisione, dico ma perché vuoi recitare o vuoi fare televisione? Che puoi fare praticamente? No, mi piacebbe avere successo. Ecco, avere successo. Non si fa più un percorso formativo perché tu sei attratto, oltre che emotivamente, sei disponibile a passare da, come diceva mia moglie ultimamente quando parlavamo di questi argomenti, dall'innamoramento per l'idea di fare teatro all'amore per un mestiere. Questo passaggio manca perché non ci interessa realmente formarci per quello che è un lavoro, che è un mestiero, è una forma di grande artigianato. No, ci interessa il successo a tutti i costi e possibilmente meno sai fare e meno sei problematico, forse più sei manovrabile. Se questo è il tipo di società e di società dello spettacolo che ci attende, la situazione è un po' triste. Poi continuiamo a parlare di qualità in alcuni settori, ma forse anche nel settore dello spettacolo dovremo badare un pochettino alla qualità e non a formare soltanto dei personaggi. La domanda che ti volevo fare, in chiusura, è parlare appunto di questi corsi di formazione, di questi laboratori teatrali, insomma, di cui voi vi occupate molto spesso. Io, insomma, indegnamente ho conosciuto te, Nico, insomma, al liceo e quindi so qual è la professionalità, la tua professionalità e la tua serietà. Vogliamo dare, non so, qualche riferimento, magari a qualche ragazzo, qualche persona che davvero è interessata a studiare per poi diventare interprete, attore, regista e autore? Allora, intanto, in assoluto, noi incrediamo nell'idea della scuola come preparazione al mestiere vero e proprio. È un po' come il discorso della scuola di base. Ti dà degli elementi per imparare a ragionare e per assumere, per poi capire come si può imparare un lavoro, perché è il nostro mestiere che si impara facendolo soprattutto. Ora, chiaramente, se hai i mezzi per poter capire meglio, impari prima, no? Hai una diversa sensibilità e impari prima. Qui in questa struttura noi facciamo laboratori per ragazzi di una fascia di età fino a 12-13 anni e cerchiamo di creare anche laboratori per adulti. Facciamo, ultimamente stiamo organizzando anche dei laboratori professionali per personale amministrativo, per macchinisti, per datori luce. E lo facciamo, tra l'altro, o a costo zero, impegnandoci personalmente, o a costi molto bassi, ovvero previsti per alcune situazioni, soprattutto per le forme di assicurazione. Quello che, per quanto riguarda l'aspetto artistico in particolare, ci interessa, è formare la coscienza aperta alla possibilità di imparare. Quando mi chiedono, dicono, ma io faccio un laboratorio per attore, dopo esco come attore. Io dico, no, esci come uno che sa leggere uno spettacolo e poi decide, facendolo, in che maniera può imparare a farlo, che percorso vuole fare. Se realmente quella materia gli interessa, se al di là dell'innamoramento per l'idea di stare sul palco, hai realmente delle qualità per poterlo fare. Cerco di farti capire questo. Così come siamo disponibili anche a dire, alla fine di un corso, fallo dal punto di vista dell'animazione, da far piacere farlo, però non pensare di farlo come mestiere. Io di solito scoraggio le persone dal farlo, ma non perché si crea una forma di, come dire, di concorrenza a posteriori. No, ci sono le persone per cui vale la pena investire, anche che investano loro su se stessi e su quali magari potrebbe anche la struttura investire nel medio e lungo periodo. Ma in generale, io scoraggio le persone perché questo è un mondo difficile, nel quale tu realmente devi essere non solo motivato, ma devi avere anche la coscienza dei tuoi limiti, di quale percorso che puoi fare. Io spero di poter insegnare anche a misurare se stessi nel mondo dell'arte. Non esci attore, esci che puoi capire se può essere il tuo percorso o no. Questo sì. Qual è il sogno di Nunziaschiano? Io sono, a parte gli schiesti, io non ricordo mai quello che sogno, quindi rispetto ai sogni sono un po'... prendo le cose che mi vengono, cerco di fare al meglio il mio lavoro e tutto quello che mi viene di positivo e anche di negativo, cerco di metabolizzarlo e andare avanti e fare un altro... Idealizzando? Idealizzando? Idealizzando, ma al momento ti devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatta del percorso che sto facendo a piccoli passi, quindi non so in questo momento, certo, ogni volta c'è un passettino avanti. Adesso l'ultima proprio di pochi giorni fa andrò a Canne, è un altro percorso, voglio dire... E diciamolo... Un altro passo, arrivare alla Croasetto con l'unico film in concorso, è quello di Matteo Garrone. Tra gli interpreti principali, già quello è una grande soddisfazione, poi tutto quello che viene dopo è tutto in più, però sono contenta anche perché diciamolo... è una soddisfazione che viene dal lavoro, cioè me lo sono guadagnato, viva Dio, posso dire con estrema tranquillità, me lo sono guadagnato con lavoro. Devo qualcosa a qualcuno che mi ha scelto, ma mi ha scelto perché evidentemente sapevo fare il mio lavoro e quindi almeno ho questa consapevolezza qua e quindi sono ancora più contenta di questo. Allora, una battuta in chiusura con Nico che non soltanto è interpretatore, autore, regista, ma è anche adesso, insomma, da un po' di tempo autore di poesie. Com'è nata questo tuo sogno realizzato, va? Ma è nata da un momento di grande compressione emotiva. Sono tornato alla poesia in un momento in cui avevo bisogno di dire fuggire dalla realtà, non è così, avevo bisogno di esprimermi con un altro mezzo e non è stata neanche una scelta, nel senso che ho cominciato a scrivere poesia quasi per gioco, di nuovo quattro anni fa circa, in tournée, e piano piano queste poesiole piacevano, avevano dei svolti comici, avevano dei svolti un po' più drammatici, esprimivano realmente il mio pensiero, mi sgorgavano fuori automatica, era il momento giusto per ricominciare a scrivere evidentemente. Il problema non è stato questo, il problema è stato che io mi sono dimenticato come si scrive in prosa. Ho adesso estrema difficoltà a scrivere in prosa, tant'è che molto spesso, anche sui mezzi di comunicazione come può essere una piattaforma tipo Facebook o altre cose del genere, tendo a rispondere in versi anche a tutte le persone che mi dicono qualche cosa, mi viene più facile la rima che non il concetto delle volte. È la lista dell'aspita. Sicuramente, in realtà è che io volevo anche aprirmi un'altra possibilità in questo grande momento di crisi, mi ero proposto, e sono stato anche accettato, tranne che dal punto di vista economico, dagli amici, perché mi ero proposto come colui che potesse scrivere dei bigliettini di auguri, che c'è sempre la difficoltà di dire, ma tu come scrivi, che cosa fai, come scrivi i bigliettini di auguri? Io ti scrivo una quartina, tu mi dici com'è la persona, che caratteristiche ha, di cosa si occupa, eccetera, e io ti scrivo una quartina o qualcosa in più di auguri che tu fai tu in qualche maniera, credo al commercio con la poesia, in qualche maniera, vedi che forse, tutto sommato, se andasse bene si può mangiare anche con l'arte, ammesso che questa sia arte. Hai capito che lui è la parte sognatrice della famiglia, io sono quella più terrena, più terra-terra, diciamo. Allora, noi, diciamo, il nostro sogno sarebbe quello di seguire te a Cannes per riprenderti e pagherebbe qualsiasi cosa per seguirmi, ma pare che c'è un problema proprio di posti anche per gli accompagnatori, quindi vedremo. Allora ci vediamo al ritorno, al rientro da Cannes. Al rientro da Cannes, senza altro. I prossimi appuntamenti con Liberation Ensemble, la stagione, insomma, è in chiusura, dicevi prima Nico, quindi i prossimi appuntamenti, la prossima stagione, già si hanno delle idee? Diciamo che stiamo cominciando a organizzare la prossima stagione. Abbiamo la volontà, intanto esprimiamo con questa progettualità la grande speranza di essere ancora attivi e di riuscire ad aprire anche l'anno prossimo. L'idea sarebbe quella di raddoppiare, di avere una stagione teatrale nella quale ospitiamo compagnie e poi facciamo produzioni nostre, più o meno col meccanismo che abbiamo attualmente che prevede un'offerta abbastanza variegata. E poi vorremmo creare un'occasione di piccola rassegna con compagnie giovani che si occupano di teatro di ricerca per capire che cosa c'è a Napoli nel teatro di ricerca e per fare in maniera che questa struttura sia anche effettivamente quello che per legge c'è una residenza anche per altre compagnie da avviare la professionalità. Grazie.